Noi siamo i 6 in prova e il nostro progetto si chiama Simple Seat Dentro alle scuole abbiamo riscontrato un grandissimo bisogno, cioè quello di trovare una nuova vita per tutti i banchi con le rotelle che dai tempi della pandemia sono rimasti inutilizzati e ad oggi il loro unico scopo è quello di prendere polvere e rovinarsi col tempo La nostra soluzione è dare una nuova vita ai banchi con le rotelle attraverso la creazione di seggiolini da stadio sia all'aperto che al chiuso e panchine Queste panchine possono essere multiscenario, infatti possono essere posizionate sia in ambienti esterni che in ambienti chiusi I vantaggi del nostro progetto Simple Seat è quello di cambiare le panchine in legno che sono usurate, per esempio sui lungolaghi e cambiarle con le nostre panchine che hanno bisogno di una minor manutenzione e non hanno bisogno di impregnanti Bravi!